Un po' in ritardo, ma gli ultimi scampoli di bel tempo hanno reso l'attesa dei milanesi e non solo che si erano dati appuntamento a piazza della Scala meno fastidiosa. Poi Roberto Bolle è arrivato, e come annunciato ha danzato insieme al corpo dei ballerini della Scala e ad un gruppo di street dancer sulle note di fame, in occasione della giornata mondiale della danza.Niente palco, però Bolle ha danzato direttamente tra centinaia di fan e curiosi, radunati per il flash mob organizzato dall'Etile. Un invito a scatenarsi al ritmo di musica rivolto a ballerini di tutte le età e di qualsiasi stile.Urla, selfie e, applausi. Quando ho visto la piazza ero quasi intimorito, la gente era tanta, ha confidato Bolle, però abbiamo sentito il loro entusiasmo ed è stato galvanizzante ballare così in libertà, senza schemi in mezzo a loro l'esibizione di Bolle e degli altri artisti è stata l'occasione per lanciare un dance, la sette giorni dedicata al ballo in programma a Milano dall'11 al 17 giugno, che porterà la danza fuori dai teatri, in strada, come oggi. Questa è stata una sorta di enteprima, ha spiegato, durante la settimana della danza ci saranno tanti tipi di ballo rivolti a tutti.